In poco tempo l'incendio si è divorato tutto, tetto, solaio e primo piano di una casa nel borgo antico di Chiappar, nel comune di Salussola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno utilizzato anche un'autoscala. A dare l'allarme era stato un video amatore che stava effettuando alcune riprese con un drone che in quel momento stava proprio sorvolando la zona. L'uomo ha infatti notato un filo di fumo alzarsi dal borgo e ha dato l'allarme. La scintilla pare sia partita da una stufa posta al primo piano di una casa, da poco ristrutturata internamente e che, come dicevamo in breve, ha avvolto il soffitto e il sottotetto di legno. Le fiamme poi si sono propagate alla coimmentazione e alla struttura del sottotetto che sotto l'impeto del fuoco e dell'acqua uscita dagli idranti è crollato. Tutto è andato distrutto. Oltre a quello che contenevano le stanze del primo piano, anche quelle del pieno terreno sono state rese inagibili dal fuoco che ha bruciato il soffitto di legno e dalle infiltrazioni degli adranti. Tutto l'edificio è andato distrutto, come ne ha parti di muro crollate e ora tutto risulta inagibile e irrecuperabile. Sul posto i vigili del fuoco di Biella e i carabinieri di Salussola, il sindaco, il vicesindaco e il parroco del paese. Una vera tragedia per una giovane famiglia con bambini alla quale non è rimasto nulla. Intanto l'amministrazione comunale proprio in queste ore sta cercando una soluzione abitativa per la famiglia.